Buonasera, Presidente Meloni, cosa fa? Ma perché si nasconde sotto la giacca ancora? C'è quel comunista di Bonelli. Ma no, ma chi? Non c'è, no. Bonelli! Ma non c'è Bonelli! Non c'è Bonelli? No! Dice che lo guardo strano. Sì, ma non c'è Bonelli, venga fuori. No, no, dice che lo guardo... posso uscire? Sì, può uscire, non c'è Bonelli. Non c'è Bonelli? Non c'è Bonelli. Dice che lo guardo strano. E infatti, ma perché tra l'altro lo guardava strano? Ma quale strano? Lo guardavo con pietà. Ma come con pietà? Non ho la pietà con la quale guardo i ragazzotti di sinistra, che sono tutti nervositi perché li ho chiamati ragazzotti. Beh, in effetti in Parlamento... Noi non siamo ragazzotti. E certo, sono colleghi. E vabbè, fatevi una risata, datevi una calmata. Ma perché? Siamo di Roma? Sì, a Roma si dice... Ah, regà, capisco che siete nervosetti perché non riuscite a mettervi d'accordo manco su un candidato in Basilica. Però non li prende in giro, sono affari loro, no? Sì, lo so. Ma non prendetevola con me, che sono romana, ho i tempi comici della romanitudine. Sì, ma non deve avere i tempi comici. I ragazzotti di sinistra, una risata, non se la fanno manco col solletico sotto i piedi. Vorazzi! Ma non devono farsi la risata adesso? I ragazzotti di sinistra. Eh. E lo credo che sono nervosetti. Eh. Perché poverini, adesso c'hanno... Cosa c'hanno? Fammi fare due conti. La fighetta svizzera che sta al 19, se non sbaglio. Ah, la schlai... Il nobile con la pochette che regala le brioche dei cittadinanza. Conte. Sta al 15, comunisti buzzoni stanno al 4. Sì. Totale 38 per cento. Eh, vabbè. Noi ci avemo. Sì, vabbè, ma non... Lascia sta perdere. Lascia perdere. Vabbè, lascia sta perdere. Lascia sta perdere. Che io sto a cifre raggiungibili. Vabbè, lei è alta. Venti sette per cento. Sono sondaggi. Venti sette per cento. Poi ci avevamo l'otto col padano putiniana. Sì, salvinio. Sì, salvinio. Il fette piccolo otto coso... Chi? Poretto, dai. Ma come puretto? Ma che sta rincalcato? Quello che fa tutto quello che gli dico io. Ah, Tajani. Tajani. Ministro degli estri. Per ora. Aggiungici il 4 e il 3 per cento dei tuoi scappati da casa. Ah. Il dentino e il pariolino e semmo a 50. E' 50, regà. E va bene, non infierisca però. E tutto questo per la credibilità che sono riuscito a creare io. Lei. Perché quando Giorgia dice una cosa... Sì. Giorgia. La fa. La fa. Quando Giorgia dice una cosa... Sì. Giorgia. La fa. La fa. Però, mi scusi. La fa. Sì, però, come dice la Gabanelli, sulle banche lei ha fatto marcia indietro, eh? Gli extra profitti. C'è la Gabanelli? Ma no, non c'è la Gabanelli. No, ma venga fuori. Non è che tutte le volte adesso... C'è la Gabanelli? Non c'è la Gabanelli. La Gabanelli dirà fuori delle cose. Eh. Che se le erano dimenticate tutte. Eh, però son vere, ha fatto bene tirarle fuori. Stanno tutti sulla sette. Ma va bene. Stanno tutti sulla sette la Gruber, la Gabanella. Sì. E continuiamo così, mentre Sanchez, in Spagna, riesce a prendere gli extra profitti delle banche. Ma perché imita la Gabanella? Ma come mai lei ha fatto marcia indietro? Anche l'imitazione della Gruber, non deve fare le imitazioni. Però scusi, perché lei non è riuscita a proteggere le famiglie che pagano i mutui? Perché prima li ha illusi, poi li ha traditi. Perché? No, non li ho traditi. Sì, aveva detto che, poi l'ha fatto, li ha traditi. Perché? No, vostro onore, non li ho traditi. Ma che, non sono vostro onore, ma perché li ha traditi? Perché vostro onore? Perché sono atteggiati. Cosa? L'ha avuto la malattia, l'ha avuto vostro onore. Ma non sono la vostro onore. Non lo mandi dentro la vostro onore. Non faccio le scelte sordi. Lo sai che malattia c'ho avuto io? Ma ma che malattia? Vuoi vedere il video della malattia? Schermale dà? Ma cosa? Fanno entrare alla malattia. Che ho apprezzato e ho ritenuto positivi molte misure, molte mozze del governo Meloni. Devo dire che tra queste non c'è la tassa sugli extra profitti alle banche. Ah, lei non era piaciuta la norma. Mi auguro che il Parlamento possa modificare la norma rendendola più equilibrata. Possa via brutta, Marius. Eh, possa via. L'hai sentita? L'ho sentita. L'hai sentita? Cosa? Mi auguro vostro onore. Ha detto mi auguro. E io che dovevo fare? Mettermi contro Mediolano? Dove va? Perché Mariuscia c'ha Mediolano. E ho capito, ma un governo. Mediolano, Mediolano. Perché dimosolo, forse Italia non è un partito, è una malattia. No. Una malattia che mi può roverare. Ma no. Oddio c'è la Gapanelli. Non c'è. No. Ma lei non c'è.